Ciao bestie, oggi vediamo un volto di profilo, in realtà lo disegniamo anche, vabbè è un cerchio e un altro cerchio per la parte piatta, tipo Mino Day Crash Test e facendo così è ben già finito in realtà, rispettivamente avete sopracciglia, naso e bocca poi è chiaro che questo qua è tipo l'uomo medi, se volete disegnare Shrek è un po' diverso però a sto punto vediamo il volume degli elementi della faccia, quello del sopracciglio è netto e andiamo semplicemente a riempire, l'orecchio sullo zigomo, sul cervelletto è un classico quindi non vi smarrita d'animo e poi contestualizziamo con la sua giacchetta non so dove debba andare ma comunque, e questo è un esempio molto veloce un bacio